È stata una partita strana, giocata a sprazzi, le squadre che sono andate in vantaggio poi hanno portato a casa il set, solo l'ultimo set è stato giocato punto a punto e dobbiamo cercare di migliorare le situazioni in cui siamo sotto i due o tre punti e non farci prendere dall'ansia che non riusciamo a recuperare perché abbiamo visto che poi quando giochiamo, giochiamo anche bene, cercheremo di farlo subito in questi allenamenti e arrivare a Mondovì carichi per provare a portare a casa dei punti. Stiamo migliorando molto in settimana, in allenamento, il livello anche con l'arrivo di Mazzo si è alzato molto e sappiamo bene che con un buon allenamento poi il buon allenamento paga e si vedrà presto sul campo speriamo.